E' in corso di svolgimento al Tribunale di Potenza una nuova udienza del processo petrolio in aula, uno tra i principali imputati, il responsabile Eni Ruggero Gheller. La politica dopo i 13.000 voti alle regionali, il docente Univas Valerio Tramuto li ufficializza la sua corsa a sindaco di Potenza. Reddito di cittadinanza in Basilicata solo 2.300, le domande presentate. Ferisce la convivente il figlio durante una violenta lite in famiglia, a Matera la polizia arresta un 38enne già ai domiciliari per droga. Come ogni lunedì al termine del Tg, il resoconto della domenica sportiva a cura di Donato Valvano. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv, lo avete sentito dai titoli. Nuova udienza oggi in Tribunale per il processo petrolio, udienza dedicata all'esame dei principali imputati, a cominciare dall'ex responsabile del distretto meridionale dell'Eni Ruggero Gheller, coinvolto nel filone che riguarda il presunto traffico illecito di rifiuti dalla cova di Vigiano agli impianti di smaltimenti relativo alla gestione dei reflui petroliferi e la mancata tempestiva comunicazione degli sforamenti dei limiti delle emissioni di inquinanti in atmosfera, dovuti, secondo quanto dichiarato in aula da Gheller, alla complessità dell'impianto che può portare a dei malfunzionamenti. Gli sforamenti, ha aggiunto Gheller, non sono pericolosi perché i limiti sono molto bassi e anche in caso di superamenti non c'è un impatto significativo sulla qualità dell'area. Torneremo nel dettaglio sull'argomento nelle prossime edizioni del Tg. La cronaca, un uomo di 81 anni ha riportato usioni dal primo al terzo grado sul 40% del corpo, stamani a Venosa, mentre stava accendendo la stufa. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Carlo di Potenza, successivamente sempre in elicottero, è stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli. Passiamo alla politica, parliamo delle elezioni comunali a Potenza. Valerio Tramutoli sarà candidato sindaco. Il PD e il centrosinistra ragionano su una coalizione allargata. Sentiamo Celestino Benedetto. Valerio Tramutoli correrà per la fascia tricolore di Potenza. Potrebbe essere il candidato del centrosinistra o un avversario dello schieramento che il PD e le altre sigle alternative al centrodestra metteranno in campo per le amministrative del 26 maggio. L'Assemblea della Basilicata Possibile, tenutasi presso la sede del Mediafor sabato sera, ha deliberato all'unanimità di dare seguito all'esperienza avviata in occasione delle scorse regionali, oltre 13.000 ai voti presi, riproponendo il simbolo e il profilo politico che hanno connotato la lista in tutti i comuni. Una decisione nell'aria dopo la performance positiva in termini di preferenze e di credimento per il docente universitario, che dunque è il candidato sindaco per il comune di Potenza, ribadendo il carattere tutto politico dell'aggregazione civica cui si intende dar vita per il governo della città. Anteporre il confronto sui contenuti programmatici e sul progetto di città che vogliamo, invece che attardarsi in sterili diatribe sugli schieramenti, è la strada che abbiamo intrapreso, ha detto Tramutoli, e lungo la quale intendiamo procedere, misurando sul merito delle scelte e non sulle appartenenze, le distanze e possibili convergenze. Una dichiarazione che potrebbe accelerare o chiudere ogni discorso sull'ipotesi di mettere in piedi una coalizione allargata di centrosinistra. La proposta, ancora in fase embrionale e tutta da tessere, ha trovato già qualche gradimento. Da alcuni ambienti di centrosinistra c'è interesse e tra oggi e domani ci dovrebbe essere una riunione tra i vertici regionali DEM allargata a parlamentari e consiglieri comunali uscenti, per valutare il da farsi. Sul tavolo la disponibilità a sostenere la sua candidatura a sindaco con una o più liste civiche profondamente rinnovate nei nomi rispetto alle esperienze del passato. Ora parliamo del reddito di cittadinanza. In Basilicata solo 2.300 le domande presentate per ottenere il beneficio, la cui erogazione dovrebbe partire a maggio. Sentiamo Mariolina Notargiacomo. Per i 2.310 lucani che hanno presentato la domanda del reddito di cittadinanza ci vorrà almeno una settimana per sapere se avranno diritto al sussidio oppure no. Dall'Inps assicurano che le risposte arriveranno già a metà aprile quando saranno trasmesse a poste italiane, a cui spetterà poi il compito di convocare i beneficiari e derogare l'assegno mensile che dovrebbe partire a maggio. Per ora la valutazione che si può fare ad un mese dall'avvio dell'operazione è di mezzo flop per il numero basso di domande, solo 2.310 dunque, delle 10-12.000 stimate. C'è intanto un primo raffronto con il REI reddito di inclusione che ha registrato circa il 50% delle domande rifiutate. Secondo i dati dell'osservatorio statistico sul reddito di inclusione in Basilicata risultano 1.150 i nuclei familiari per settori della misura con un totale di 2.871 persone coinvolte e un importo medio percepito di 259 euro mensili. Ci aspettavamo un'affluenza maggiore, ammette Massimo Bagnoli, coordinatore della consulta nazionale dei CAF, ma ciò non toglie che molti cittadini, soprattutto stranieri, abbiano ancora bisogno di ricevere informazioni e quindi la presentazione delle domande proseguirà nel corso dell'anno. Bisogna capire perché non ha funzionato, sostiene il segretario regionale della UIL, Carmine Vaccaro, che con i colleghi di CGL e CISL aveva già manifestato cautela sull'effetto miracoloso del provvedimento nazionale. Il tragico incidente di ieri a Potenza, a seguito del quale ha perso la vita il 43enne Marco Gentile, sembra ormai chiara la dinamica. L'uomo sarebbe stato travolto dalla sua auto, un Alfa Romeo Giulia, dopo che la stessa ha preso velocità nel tratto di strada in discesa all'altezza della Banca Popolare di Bari, forse per un guasto al freno a mano. L'auto è finita al di là della strada, scontrandosi prima contro il guardrail laterale sulla sinistra, poi contro un balcone di una palazzina, e infine al di sotto, in un fossato, nel piazzale sottostante, la via principale per il 43enne, che ha riportato ferite alla testa e agli arti, non c'è stato nulla da fare. Gentile lascia un figlio, 15enne. A Policoro, una 22enne sorpresa in auto con un manganello è stata denunciata dai carabinieri. La donna di nazionalità romena dovrà rispondere di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. E ci fermiamo per la pubblicità. La donna di nazionalità romena dovrà rispondere e alla prossima. La naturale ricchezza della terra vulcanica, le cooperative vitivinicole del Vulture, la tradizionale abilità nel produrre vino, tutto questo è il Consorzio Viticoltori Associati del Vulture, da 40 anni ambasciatori della Basilicata nel mondo. Consorzio Viticoltori Associati del Vulture, strada provinciale 93, Barile Potenza, telefono 0972 77 03 86. Consorzio Viticoltori Associati del Vulture, aglianico del Vulture, per passione. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro Tg, ripartiamo dalla cronaca, ferisce la convivente e il figlio durante una violenta lite in famiglia. È successo a Matera, ce ne parla Alessandro Panuccio. Ancora una storia di violenza tra le mura domestiche. A Matera la polizia ha arrestato un uomo di 38 anni che nel corso di una lite familiare ha aggredito la propria convivente, colpendola con il bastone di metallo strappato dalla tenda d'arredo del soggiorno. Poi ha spintonato violentemente il figlio sedicenne che aveva cercato di separare i genitori e dopo aver prelevato dal ripostiglio una pistola per l'erogazione del silicone, l'ha scagliata con forza contro il ragazzo, provocandogli una vistosa ferita al volto. Madre e figlio dopo l'intervento degli agenti sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure del caso. Il ragazzo che ha riportato la frattura delle ossa nasali se la caverà in 30 giorni, prognosi di 5 giorni invece per la madre. L'uomo che già era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di droga è stato arrestato in fragranza di reato e condotto nella casa circondariale di Matera. Poche risorse per le province. A lanciare l'allarme il presidente Rocco Guarino intervenendo a Bella nel corso di un incontro pubblico che ha seguito per noi Michelangelo Russo. Dopo una fase di programmazione che ha interessato i sette comuni del Marmoplatano si inizia ad entrare nel vivo degli interventi. Bella è uno dei centri che più di altri paga un gap infrastrutturale con le risorse rinvenienti dalla strategia delle aree interne. È forse giunto finalmente tempo di mettere mano alla viabilità locale. In un'assemblea pubblica tenutasi all'interno della sala consigliare del comune il primo cittadino alla presenza del presidente della provincia Rocco Guarino ha fatto il punto sui lavori che riguarderanno prossimamente le arterie che insistono sul territorio. Sulla SP14 Bellese abbiamo stanziato 700 mila euro, sulla SP92 950 mila euro, 400 mila euro le abbiamo stanziato sulla SP67 Sant'Antonio Casalini Baraggiano, altri 450 mila euro le abbiamo stanziati per adeguare la viabilità sulla SP132. A breve saranno appaltati i due primi interventi a valere sulla programmazione delle aree interne, ovvero la strada comunale denominata Fonto Valle di 200 mila euro, così come appalteremo anche a breve l'intervento via Orazio Flacco, strada Nastro Verde. Il presidente Guarino, insediatosi a capo dell'ente provinciale da appena quattro mesi, ha intanto lanciato l'ennesimo allarme sull'esigua disponibilità di risorse per assicurare ai Lucani una viabilità provinciale efficiente, dicendosi addirittura pronto, qualora non arrivassero risposte concrete dal governo centrale e dalla regione, a scendere in piazza insieme ai cittadini. Noi proveremo a reperire quante più risorse possibili, anche ricorrendo all'ipotesi di fare dell'indebitamento, di mettere in campo un mutuo da parte della provincia, chiediamo aiuto nella stessa direzione alla regione e al governo centrale. Qualora questo aiuto non dovesse venire, chiamerò i cittadini a una mobilitazione di massa, credo che questo sia un diritto anche dei cittadini lucani e della provincia di Potenza, alla parte dei cittadini del resto d'Italia. Partendo anche da un dato, che molte risorse sono state assegnate a società autostrada e a Nanas e che hanno difficoltà anche a spendere. Noi abbiamo chiesto che una parte, quella di risorse, venisse assegnata alla provincia, la richiesta la ribadiamo pari pari, così come abbiamo fatto qualche mese fa. Prenota una vacanza online, ma è una truffa vittima, una ragazza materana raggirata da una operatrice turistica della provincia di Roma, già nota alle forze di polizia. La ragazza ha contattato la 36enne per avere i dettagli di una vacanza in Egitto. L'operatrice, con la scusa che la validità del prezzo promozionale sarebbe scaduta a breve, le ha chiesto di versare 500 euro. Qualche giorno prima della partenza, l'acquirente si è accorta di non risultare tra i nominativi dei viaggiatori. Ha cercato di contattare l'operatrice turistica per chiedere spiegazioni in merito, senza riuscire però più a contattarla. È dunque scattata la denuncia e le relative indagini che hanno portato alla denuncia della 36enne romana. Nel prossimo servizio, con Mara Risola, parliamo della rassegna Altro Cinema Possibile. Ultimi due appuntamenti per la dodicesima edizione di Altro Cinema Possibile, il Cinema dei Diritti Umani. Rassegna ideata e curata dall'Associazione di Promozione Sociale 0971. La manifestazione si svolge per cinque martedì di fila, dal 19 marzo, e si concluderà il 16 aprile, presso il ridotto del Teatro Stabile di Potenza. La rassegna cinematografica rappresenta un'occasione per conoscere ed approfondire le complesse questioni relative ai diritti umani, attraverso la visione di opere di buon livello qualitativo, che nonostante abbiano spesso conseguito premi e menzioni, sono sconosciute al grande pubblico. Sono ormai da anni che noi sperimentiamo questo modo di stare insieme attraverso le immagini firmiche, cercando film di qualità che solitamente non sono ben distribuite, o ancora peggio, non vanno nelle sare di cinema cosiddette commerciali, proprio più nei network televisivi. Noi ci proponiamo di anno in anno di far vedere il meglio del cinema di qualità attraverso i temi dei diritti umani, dell'ambiente con la rassegna Orsi Cinema, che è una sottosezione di altro cinema possibile, e con Rainbow, una sezione dedicata ai diritti civili. Gli ultimi due appuntamenti, questo martedì, e il prossimo, al ridotto dello Stabile di Potenza. I prossimi appuntamenti della rassegna sono il 9 di aprile con Juventa, che è un film, un documentario o meglio, girato su una nave del Mediterraneo da un'organizzazione non governativa tedesca, e l'ultimo appuntamento si conclude con un film che ha avuto il patrocino di Amnesty International, Cosa di Caragente. E da parte mia è tutto, ora la linea Donato Valvano per le notizie sportive. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Ben ritrovati dagli studi della nuova TV con il consueto appuntamento con l'informazione sportiva del lunedì. Partiamo come sempre dal calcio e dalla serie C. Non perdiamo tempo, andiamo a vedere subito i risultati e poi la classifica. I risultati della 34esima giornata del girone C di Serie C. Catania Bisceglie 2-1, Catanzaro Virtus Francavilla 2-3, Juve Stabia Trapani 2-0, Monopoli Casertana 0-1, Paganese Rieti 0-1, Potenza Cavese 4-0, Regina Sicula Leonzio 0-1, Siracusa Vibonese 3-0, riposano Viterbese e Rende. La classifica. La Juve Stabia scappa via, quota 71 punti, poi Trapani 64, Catanzaro e Catania 60, Potenza 50, Virtus Francavilla 46, Viterbese, Monopoli e Casertana 44, Regina e Rende 43, Vibonese Sicula Leonzio 42, Cavese 40, Rieti e Siracusa 33, Biceglie 26, Paganese 17, Matera escluso dal campionato. E dunque il miglior potenza del 2019 annienta la Cavese con quattro reti e blinda i play-off. Sentiamo Luigi Santopietro. Cento anni di storia festeggiati con tutte le candeline accese, dall'omaggio al mitico Scarpa, alla coreografia da brividi organizzata dalla curva ovest, fino alla cosa più importante, la vittoria sulla Cavese che respinge all'indietro una diretta concorrente e che blinda i play-off nel momento più importante della stagione. Il Potenza avrà pure cent'anni, ma se li porta benissimo, al decimo, punizione di Emerson, testa di Guaita, sponda di Sales e gol di Longo, tutto bello, anzi no. Rete annullata per fuorigioco molto dubbio. Al dodicesimo un coppola in versione ira di Dio, sale in cielo a recuperare una palla vagante, Longo prova l'aggancio ma non arriva sul pallone. Al ventiquattresimo Guaita vede Emerson libero e il brasiliano traccia una diagonale sudamericana per l'unuguaiano Sepe, ma il gol è nuovamente annullato per un probabile offside di partenza del difensore rosso-blu. Minuto 27, Longo scarica per Dettori, tocco sofficissimo per Guaita, Filippini in estirata si immola e salva la Cavese. Al trentacinquesimo capolavoro di Emerson che ha gli occhi sulla nuca e vede il Longo in area, controllo di sinistro e bomba di destro del folletto rosso-blu che fa esplodere il Viviani. Il potenza è on fire, Dettori recupera palla in mediana, si allarga a sinistra finta, doppia finta scucchiaiata per Guaita che di testa incrocio alle spalle di De Brasi, 2-0. Prima di andare al riposo la Cavese risponde all'appello al quarantatresimo cross di Nunziante, liscio di felle girata di alleggerimento di Tumbarello. Nella ripresa ci si aspetta la reazione dei Blufonset che sta tutto quasi in questo giro di filippini che brezza, para con gli occhi bendati. Al cinquantacinquesimo Coppola mette il sugello a una partita assontuosa, assist per Longo, controllo aereo e bordata sotto la traversa che gonfia la rete della Cavese per la terza volta, champagne. Scocca l'ora di gioco, numero di Dettori che vede panico a sinistra, tocco in mezzo per la rete di Guaita, tutto fermo per offside. Al settantunesimo standing ovation per Longo che esce tra gli applausi del Viviani per un Ricci pronto a lanciare spine. Cavese timidamente in area rosso-blu, tentativo di Flores Atley, al settantatresimo che reclama un rigore per tocco di mano di Coppola, l'arbitro fa proseguire. Al settantasesimo Guaita fa pezzi la fascia sinistra della Cavese, l'esterno argentino scherza Flores Atley e mette in mezzo per Ricci che brucia manetta per il 4-0. Il numero 18 rosso-blu si conferma letale, va a mettere la firma sull'ottavo gol in campionato, meglio di un attaccante. Al settantottesimo punizione di Dettori, acrobazia di Sepe, De Brasi vola e blocca in due tempi. All'ottantacinquesimo umaggio degli ospiti ai cento anni del Potenza, De Rosa regala un pallone alla curva che sentitamente ringrazia. Bacio Terracino appena entrato se ne va in contropiede all'ottantasettesimo, dribbling a rientrare, conclusione a uscire dal campo. Il Potenza non si ferma mai all'ottantanovesimo Panico-Crossa, Bacio Terracino-Ciabatta, Mischia-Furibonda, poi Lescano e Murato. Ultimo tentativo della Cavese al novantesimo, ma il sinistro di Sainz-Mase è più imbarazzante che pericoloso. Dopo tre minuti di recupero, il signor Campone di Pescara manda tutti negli spogliatoi, ma il Potenza resta in campo a festeggiare il compleanno e il tredicesimo risultato utile e consecutivo con gli amici di sempre. E scendiamo di categoria, passiamo alla Serie D. Andiamo a vedere subito i risultati del Girone H. I risultati della trentesima giornata del Girone H di Serie D. Altamura-Nola 1-2, Azieta Picerno-Pomigliano 3-0, Ercolanese-Bitonto 1-2, Fidelisandria-Fasano 2-1, Francavilla-Taranto 2-1, Gelbison-Cerignola 0-0, Gravina-Savoia 0-1, Nardò-Graniano 1-1, Sarnese-Sorrento 0-3, A lungo del Picerno in classifica, Primo a quota 74 punti, poi Cerignola 65, Taranto 64, Bitonto 50, Savoia 49, Fidelisandria 47, Altamura 44, Gravina 42, Fasano e Francavilla 40, Sorrento 37, Gelbison 34, Nola 33, Nardò 32, Sarnese 30, Graniano 29, Pomigliano 19, chiude l'Ercolanese a 12. E quindi tre punti d'oro per il Picerno che batte il Pomigliano e allunga in testa la classifica rispetto alle concorrenti Cerignola e Taranto che non vincono. Sentiamo Mara Risola. Altri tre passi verso la Serie C. Il Picerno batte con un rotondo 3-0 il Pomigliano e allunga in testa la classifica nei confronti di Cerignola e Taranto, rispettivamente a 9-10 punti. La squadra di mister Giacomarro parte a sprombattuto e al diciottesimo trova la rete del vantaggio. Azione di Gallon sulla sinistra, Filtrante per Pitarrese che con un tiro cross trova Santaniello che in spaccata fa 1-0. Al ventisettesimo ci prova Conte dal limite ma la sfera termina di poco a lato. Al trentanovesimo il Picerno corre l'unico pericolo della giornata. Cesarano perde un brutto pallone sulla tre quarti. Liberti serve Bonocore che impegna Fusco. Al quarantaquattresimo azione personale di Ianiello che salta un paio di avversari e fa partire un gandestro sul quale Bonocore è bravo a volare e a deviare in angolo. Nella ripresa i Lucani cercano subito di spingere sull'acceleratore. All'ottavo Fiumara con un gran tiro di destro sfiorò la traversa. Al tredicesimo i rosso-blu trovano la rete del raddoppio. Pitarrese scodella in mezzo per Ianiello ma Marotta, nel tentativo di anticipare il numero 10 Lucani, colpisce la sfera con il braccio. Il signor Ubaldi decreta la massima punizione. Dal dischetto Pitarrese spiazza Bellarosa per la rete del 2-0. La leonessa controlla agevolmente il match senza correre a alcun pericolo. Al ventiseesimo Gallon lancia Santaniello che in velocità brucia il suo diretto avversario ma sulla sua strada trova Bellarosa, ancora bravo a tenere in vita i suoi. Nel recupero al quarantasettesimo c'è Gloria anche per Tedesco, appena entrato. Capitane Esposito, anche egli subentrato da pochi minuti agli Agnello, lancia in profondità Tedesco che a tu per tu con il portiere non può sbagliare. Soltanto al quarantanovesimo arriva la prima conclusione degli ospiti nella ripresa, con Poziello che dal limite sfiora la traversa con un bel tiro di sinistro. Tre punti vitali per il Picerno che approfitta dello scivolone del Taranto. Basterà ottenere quattro punti nelle restanti quattro sfide di campionato per coronare il sogno di un'intera comunità. Successo fondamentale al novantesimo per il Francavilla contro il Taranto. Alfittipaldi finisce 2-1 per i sinnici che per la salvezza è quasi fatta. Sentiamo il racconto della partita nel servizio di Celestino Benedetto. Pomeriggio di festa al Fittipaldi di Francavilla in Sinni, dove i padroni di casa sono riusciti nell'impresa a dibattere il quotato Taranto per 2-1. Prestazione impeccabile per Dauri e compagni che ottengono tre punti fondamentali in chiave salvezza. Nessun timore reverenziale per Lazic che schiera i suoi con un 4-3-3 a trazione anteriore. Solito 4-2-3-1 per Panarelli, senza lo squalificato Oggiano. Primo tempo di marca sinnica. Al ventiquattresimo passano i locali. Duetto in velocità, Dauri alla Vopa, tocco del primo per il secondo che batte Antonino con un bel destro sul palo lontano. Il Taranto è imbrigliato ma al 35esimo perviene al pari nell'unico tiro in porta del suo primo tempo. Punizione di Marsili e destro straordinario per forza e precisione, imparabile per Albigini. Il Francavilla reagisce e sfiora il gol con Leonetti prima e Raiola poi, poco prima dell'intervallo. Dopo una prima frazione sontuosa, nella seconda il Francavilla parte in sofferenza al cospetto di un Taranto riversato in avanti. Al 58esimo Albigini deve superarsi per negare la gioia del gol da fuori, al solito D'Agostino, rifugiandosi in angolo. Al 62esimo l'occasione del sorpasso è sulla testa di Croce, che riceve il cross di D'Agostino appoggiando di fatto il pallone tra le braccia di Albigini da pochi passi. Il duello si rinnova a un quarto d'ora dal novantesimo. Stavolta la punta ospite ci prova di piede, con un fendende a mezza altezza su cui l'estremo Lucano fa ancora una buona guardia. I Tarantini ci mettono tanta qualità, non riuscendo tuttavia più a rendersi insidiosi, causa l'ottima organizzazione del Francavilla, che dopo aver sprecato un paio di ottime ripartenze, al 44esimo passa. Discesa sulla sinistra di Cardamone, cross col contagiri e stacco ottimo in mezzo di Cimino, su cui Antonino non può fare nulla. È il gol che decide la partita e che consegna ai ragazzi di Lazic quattro match ball salvezza, con i play-out ora lontani, sette lunghezze. Dal girone H ci spostiamo nel raggruppamento I. Andiamo a vedere subito il quadro completo dei risultati e poi la classifica. I risultati della trentesima giornata del girone I di Serie D. Castrovillari-Locri 3-0, Città di Messina-Acireale 2-0, Gela-Turris 0-1, Igeavirtus-Rotonda 0-0, Nocerina-Bari 1-0, Palmese-Marsala 3-2, Portici-Cittanovese 2-1, Roccella-Sancataldese 0-4, Troina-Messina 1-0. La classifica, Bari-Invetta quota 69 punti, poi Turris 61, Marsala 47, Troina 46, Acireale-Cittanovese-Portici 44, Nocerina 43, Castrovillari 42, Palmese-Gela 40, Messina 36, San Cataldese 34, Roccella-Città di Messina 31, Locri 30, Rotonda 24, Igeavirtus 21. Il Rotonda non va oltre lo 0-0 in casa dell'Igeavirtus e fallisce una buona occasione per agganciare già il terzo-ultimo posto. Sentiamo Lucia Pietrafesa. Un pareggio che scontenta tutti. Il Rotonda non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Igeavirtus e lascia due punti per strada per agganciare il terzo-ultimo posto. Partita bruttina e piuttosto bloccata, la prima occasione lucana con il colpo di testa di Flores, di poco alto. L'Igeavirtus risponde con un mancino di Dodaro. Gonzales salva in angolo che sugli sviluppi del corner seguente chiude ancora lo specchio della porta sul tentativo sotto misura di Silla. Poi è solo Rotonda. Silletti si divore il vantaggio alzando troppo la mira dall'interno dell'area piccola. Al 32esimo ci prova anche Capristo in rovesciata ma il suo tentativo si perde a lato. Al 38esimo è Chiavazzo a fallire lo 0-1 trovando la respinta di Cascione su tiro da buona posizione. Nel finale di tempo ancora Chiavazzo calcia al volo, palla al di là della traversa. Nel secondo tempo la partita non offre emozioni particolari, le due squadre non affondano i colpi e sembrano quasi accontentarsi dello 0-0. La prima palla gol per i bianco-verdi su calcio d'angolo al 39esimo. La zuccata di Valori termina altissima. Al 40esimo ci prova Perkovic con un destro che viene smorzato e termina docilmente tra le braccia di Gonzales. Poi ci prova Talia su punizione da lontano, palla a lato. Finisce così 0-0, un pari che non accontenta nessuna delle due formazioni. Per il Rotonda, oltre tre punti che arriveranno a tavolino dopo il match di Troina, ora due impegni fondamentali contro il Rocella e la San Cataldese per agganciare il treno dei play-out. E passiamo ai campionati regionali. In eccellenza era in programma l'ultima giornata della stagione regolare. Il Lavello batte il Grumentum e si porta al secondo posto in classifica qualificandosi quindi alla finale play-off. I Dauni hanno scavalcato il Melfi, fermato sul pari ad Avigliano. I federiciani affronteranno in casa la Vultur nella semifinale play-off. In coda Pomarico, Montiscaglioso e Ferrandina conquistano la salvezza diretta. Avigliano e Ripacandida si giocheranno la semifinale play-out. La perdente affronterà il Latronico. Andiamo a vedere il quadro completo dei risultati e poi la classifica del campionato di eccellenza. Ecco i risultati della trentesima e ultima giornata del campionato di eccellenza. Avigliano Melfi 3-3, Latronico Vultur 0-2, Lavello Grumentum 4-1, Moliterno Realtolve 3-3, Montescaglioso Policoro 3-0, Murese Ferrandina 1-2, Real Metapontino Pomarico 1-4, Ripacandida Real Senise 3-2. La classifica finale. Il Grumentum in testa con 76 punti, Lavello 68, Melfi 67, Vultur 66, Real Metapontino 50, Policoro 44, Real Senise 43, Moliterno 37, Real Tolve 35, Montescaglioso e Pomarico Appaiate a 33 punti, Ferrandina 32, Ripacandida 26, Avigliano 23, Latronico 20 e Murese 14. Nella Serie A2 di Volle è arrivato un successo alla tie-break per la Geusat Lago Negro che ha battuto per 3-2 il Cissano in gara 1 dei play-off. Parziali 19-25, 25-18, 25-18, 20-25 e 15-11. Gara 2 in programma mercoledì in trasferta. Sconfitte invece per l'Olimpia Matera nella Serie B di Pallacanesto sul parquet del Palestrina. I Biancosurri di Coccio Origlio sono andati K.O. per 86-80. Materani a quarto posto in classifica a 38 punti. E passiamo alla karate, ancora una medaglia d'oro per Ursula Donofrio. L'atleta Sant'Arcangiolese ha conquistato il metallo più pregiato ai ventesimi Open d'Italia a Riccione, battendo in finale Georgiana-Georgita per 4-1. E chiudiamo con i motori. Gara sfortunata per il pilota lucano Chico Postiglione alla prima prova del campionato italiano Gran Turismo. Postiglione ha chiuso al sesto posto sul circuito di Monza. Corsa sfortunata in quanto la sua Lamborghini esplosa una gomma mentre era in lotta per la vittoria. L'incidente quindi lo ha costretto a perdere posizione e a chiudere solamente al sesto posto. E termina qui la consuetta pagina sportiva del lunedì, ma per rivivere le emozioni della giornata calcistica appena trascorsa, vi ricordo l'appuntamento con questa sera con Stop in Golla alle 19.45 ed in replica alle 21.30 e alle 23.30 con Alessandro Panuccio e i suoi ospiti. La nuova sport del lunedì termina qui. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS